Ieri sera il sindaco Roberto Gambino ha predisposto oltre la chiusura delle scuole anche quelle delle ville comunali, dei parchi pubblici e del cimitero. Durante la sua diretta ha chiesto alle famiglie la massima collaborazione affinché i loro figli, non andando a scuola, non approfittino di questo stato di cose per uscire liberamente. Considerata l'allerta medio per la giornata odierna, il primo cittadino ha raccomandato di stare a casa e di evitare gli spostamenti se non per casi urgenti. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un'allerta medio di livello orancione sino a venerdì 10 febbraio e raccomandano ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti a piedi o con l'automobile, di evitare i sottopassaggi, di non utilizzare mezzi a due ruote e di non sostare in prossimità di aree a rischio. Come si evince, al momento le precipitazioni si concentrano sulle province orientali con piogge fino a 80 mm. Il Nisseno è sfavorito da tali correndi e potrebbe entrare in gioco solo nel tardo pomeriggio odierno ma con piogge più moderate. Probabilmente anche il centro Sicilia avrà la sua razione d'acqua tra stanotte e domattina, allorquando il sistema tenderà ad allontanarsi definitivamente.